Molte patologie croniche sono scarsamente controllate. Per esempio un ricovero su 5 per malattie respiratorie è causato da una scarsa o nulla adesione alla terapia prescritta. In questo scenario la farmacia può svolgere un ruolo essenziale per la gestione delle malattie croniche. Sono questi i temi principali del simposio sull'evoluzione del ruolo del farmacista organizzato nell'ambito di Cosmopharma e promosso da Chiesi Italia. In quest'ottica negli ultimi anni la collaborazione tra aziende farmaceutiche e farmacie sono nate molteplici iniziative rivolte al cittadino. È il caso del network Farmacia del Respiro che identifica la rete di farmacisti con una preparazione specifica in ambito respiratorio. Chiesi di fatto è impegnata ormai da alcuni anni nel sostenere il farmacista all'interno dell'evoluzione del suo ruolo in termini di supporto ai percorsi di salute del cittadino e dall'altra parte anche attività di formazione. Noi siamo azienda leader nel settore respiratorio e sul settore respiratorio stiamo costruendo un percorso di supporto allo sviluppo di competenze del farmacista in questo ambito. Il farmacista e la farmacia hanno un ruolo cruciale in quanto in coerenza con il piano nazionale della cronicità dovrebbe inserirsi all'interno di un team multiprofessionale che di fatto prende in carico insieme ad altri professionisti della salute il paziente accompagnandolo nel difficile percorso della cronicità. Esistono di fatto due aspetti che sono riconducibili al possibile ruolo del farmacista in questo ambito. Il primo è quello di rappresentare di fatto il primo avamposto sul territorio per quanto riguarda il paziente. Il secondo aspetto è quello di rappresentare un presidio continuativo nell'interazione con il paziente inerente ad esempio a temi relativi all'aderenza, al corretto utilizzo del farmaco e ad aspetti ad esempio come quelli delle reazioni avverse e quindi della farmacovigilanza che trattandosi di pazienti anziani sono assolutamente rilevanti in funzione della comorbidità che tipicamente caratterizza questa tipologia di popolazione.